Cari lettori di Xtreme Hardware, benvenuti sul nostro portale. Questo è un velocissimo video di presentazione del nuovo prodotto che abbiamo appena analizzato, lo Shuttle DS81. Facciamo presente che è stata già fatta la recensione di questo prodotto sul portale appunto di Xtreme Hardware, questo è semplicemente un video anteprima in realtà del prodotto stesso, un video in cui vi vogliamo mostrare realmente com'è, fisicamente com'è questo cabinet e snocciolare alcune delle sue caratteristiche tecniche. Beh, innanzitutto le dimensioni, giudicate voi stessi. È un sistema davvero microscopico, misura 19 cm x 16,5 cm x 4,3 cm di altezza. Il telaio è in acciaio. è presente appunto, si chiama Shuttle Slime PC Bearbone DS81. Bearbone. Bearbone. Che significa questo termine? Significa in sostanza che questa unità è semi-completa, cioè semi perché bisogna, è fornito, viene fornito appunto il telaio, un alimentatore integrato, una scheda madre proprietaria e un sistema di dissipazione proprietario, tutti i dettagli che osserveremo fra pochissimo. Quindi questo significa che dovrete comprare e acquistare una CPU, un hard disk e delle RAM appunto, o altri accessori, insomma dipende dalle vostre necessità. Supporta il socket LG Intel 1150 e potete installare fino a 16 GB di RAM. Quindi in sostanza in questa piattaforma potete installare uno dei processori più potenti in circolazione con 16 GB di RAM, un SSD da 1 TB, insomma in sostanza tutto quello che potreste fare con un PC moderno è certo giocare perché con sistemi simili non si può pretendere altro. Il sistema di dissipazione è molto valido, è stato testato fino a 50 gradi con una temperatura ambientale a retto. È un test effettuato direttamente da shuttle nel CABIT di Hannover. È un sistema che consuma molto poco, noi abbiamo eseguito dei test termici di consumo elettrico, prestazionali ed anche di silenziosità mediante un fonometro e si è rivelato essere un sistema davvero molto silenzioso. Questo perché presenta due ventole preinstallate al di sopra di un dissipatore molto compatto ma potente dotato di ben due heatpipes. Uno degli aspetti principali di questa unità anche a parte le dimensioni ma la connettività. Come vediamo infatti presenta, adesso faccio un piccolo zoom, presenta due porte seriali e questa è una cosa molto interessante perché è un sistema molto versatile, può essere utilizzato ad esempio nel campo dell'automazione di applicazioni industriali, applicazioni scientifiche, sistemi POS e altre applicazioni ad esempio commerciale quindi connesso a ricevitori fiscali, stampanti, sistemi integrati, addirittura bancomat teoricamente. Il DS81 presenta quindi due porte RS232 che supportano anche voltaggi ausiliari da 5-12 volt. La porta sinistra COM supporta anche l'uscita RS422 e 485. Oltre a questo sono presenti due porte dual gigabit LAN network quindi in sostanza due porte LAN e niente questo è quanto. Supporta anche due display con la porta HDMI e DisplayPort quindi questa è un sistema fatto anche per sistemi multischermo. Ovviamente diciamo che presentando il sistema VESA, cioè un sistema di aggancio proprietario, non proprietario, generalizzato volevo dire questo, permette appunto di essere installato e posizionato dietro a schermi ad esempio mediante gli appositi supporti. Supporta quindi risoluzioni 4K, Ultra HD a 60Hz, presenta anche uno slot per mini expansion cards, quindi mini PCIe. Nella parte posteriore vediamo che sono presenti due fori, il che significa che è possibile installare il kit WLAN WLNS e di shuttle wireless quindi. Sì, è possibile anche bloccare il telaio con un sistema di chiusura di tipo Kensington Lock e un'altra caratteristica interessante è che è possibile accendere l'unità direttamente con un connettore esterno. External power button by separate remote line. So, eh sì, so, non fa parlare in inglese, ormai faccio parecchia confusione, aiutatemi. Fare tutto è impossibile. Quindi insomma in sostanza è un sistema che può essere integrato all'interno di sistemi più complessi, quindi ad esempio pensiamo a una sorta di banco matto esterno con un pulsante di accensione oppure dei terminali che devono stare accesi H24 per presentazioni, conferenze. Questa piattaforma dà delle ridottissime dimensioni quindi presenta anche un utilizzo molto più professionale di quello che può essere un ambito semplicemente desktop. Ad esempio, oltre a tutto questo, può essere riacceso anche in seguito al power fail, quindi alla caduta di corrente. Presenta anche una porta per SD card. Bene, questo è quanto. Vediamo innanzitutto il cabinet da vicino. Anzi, all'interno. Un attimo solo. Ecco qui. Allora, innanzitutto il cabinet si smonta dalla parte posteriore, si apre dalla parte posteriore, mediante la rimozione di due viti, che in questo caso abbiamo già rimosso. Quindi bisogna semplicemente tirare fuori la scocca. La rimoszione è facilissima, da notare l'eccezionale verniciatura posteriore, che non ci interessa minimamente. Allora, regoliamo una luce, che se no, non vedete assolutamente nulla. Infatti non vedete assolutamente nulla. Ci apremo? Andiamo così? Oh, ecco. Mi piace di più. Allora, questa è l'unità. Come è possibile vedere, è presente un sistema di dissipazione molto complesso, sebbene sia molto basso. Nonostante ciò, presenta due heatpipe su una base che non presenta una finitura a specchio a sua volta, il che significa che teoricamente potrebbe essere ottimizzata, ce n'è bisogno assolutamente no. Le performance sono ottime, il sistema presenta due heatpipes, ed è molto silenzioso, con una rumorosità ambientale di 33 dBA a 30 cm di distanza, 30 cm ripeto che è molto vicino. Questo cabinet sotto carico è arrivato a circa 36-37 dBA. Ora non ricordo il dato preciso, andate ad osservare il risultato nella recensione scritta. Presente sempre su Xtreme hardware, quindi in sostanza si può dire che in un ambiente casalingo è un sistema inudibile. Tralasciando il sistema di dissipazione osserviamo molto velocemente la predisposizione per l'hard disk, la rimozione immediata mediante una semplice vite e bisogna rialzare la staffa. Ecco, da qui. Stacchiamo il cavo dati. Bene. Come potete notare sono presenti due connettori risata, anche se in sostanza l'alimentazione c'è per un solo hard disk, perché in queste dimensioni non era possibile metterne due. Qui possiamo osservare 4 GB di RAM, è possibile arrivare fino a 16, quindi con due banchi su DIMM da 8 GB di uno. Nella recensione scritta troverete tutti i dettagli per quanto riguarda le particolarità di questa motherboard che è proprietaria Shuttle, che nel 2008... Sì, abbiamo riportato anche la storia della compagnia, ora non ricordo su due piedi si è fatto 30 anni, comunque ci si avvicina. Dovrebbe essere 30 anni nel 2008. È partita Shuttle con la produzione rischia dei matri proprietari ed infatti guardate dove è arrivata. Sistemi del genere sono davvero molto complessi, sono soluzioni elitari e costano tanto. In realtà nemmeno troppo, perché con 210 euro, IVA compresa, ci si porta a casa questo piccolo gioiellino a cui è da aggiungere una CPU, delle RAM e un hard disk e poi può funzionare. Poi ci sono kit accessori, insomma dipende dalle vostre esigenze. Comunque sia, con 210 euro avete questo sistema che può essere trasportato con estrema facilità, integrato con altrettanta facilità, quindi è davvero un sistema molto interessante. Fateci sapere cosa ne pensate della recensione e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.